Si comincia a delineare il quadro politico della città di Teramo per le prossime elezioni comunali. Nella politica nazionale è spuntato un terzo polo grazie al patto tra azione Italia Viva, invece alle prossime comunali di Teramo il terzo polo andrà diviso. Italia Viva da una parte con la candidatura della Marroni dall'altra azione. Questo perché il partito guidato da Carlo Calenda ha deciso di appoggiare la candidatura civica di Carlo Antonetti. Una decisione arrivata dopo un lungo confronto tra il direttivo comunale e provinciale che alla fine ha portato ad accogliere l'appello arrivato dalla società civile indirizzato all'avvocato Carlo Antonetti. Ci è sembrata la candidatura, il profilo, la qualità professionale, umana di Carlo Antonetti corrispondere pienamente a quella che è la nostra idea di candidato sindaco. Auspichiamo che questo terreno, che questo progetto possa trovare altre forze che si uniscano ad un lavoro che sarà sicuramente impegnativo e che adesso il candidato sindaco insieme a tanti dovrà mettere in campo. Con ogni probabilità nei prossimi giorni dovrebbe convergere sulla candidatura dell'ex presidente del Terramon Basket in Serie A anche il futuro IN, il movimento di Paolo Gatti. Ad oggi io vedo un centrodestra abbastanza litigioso. Auspichiamo che esca al più presto con un candidato sindaco, di modo che lo scenario politico delle candidature si andrebbe quantomeno a definire. Poi ritengo che anche per profilo, per storia, Carlo Antonetti sappia poi trarre le sue decisioni. L'inclusione è l'imperativo categorico un po' che deve spingerci. Però, ripeto, azione per profilo si colloca al centro e con quelle che sono forze politiche che hanno un altro modello di nazione, di stato, di politica, è un po' difficile dialogare con loro. Si va dunque verso una corsa a quattro, il centro-sinistra stretto intorno al sindaco uscente Gian Guido D'Alberto. Il centrodestra dei partiti probabilmente andrà sull'assessore regionale Pietro Quaresimale e due terzi poli, uno con la Marroni e uno con Antonetti. Quindi il ballottaggio fissato per il 28 maggio, salvo sorprese clamorose, è quasi certo.